Francesco Corosiniti, ultima tappa e nella testa della Domus Bet cosa c'è? Già la Final 8? Diciamo che il weekend importante è quello di Riccione. Ovviamente andremo a Catanzaro per provare a vincere le ultime tre partite della stagione regolare ma saranno partite in preparazione delle finali sicuramente. Ecco quella sabbia tu la conosci molto bene, giochi a casa quindi sarà anche un'emozione particolare per te con un Francesco Corosiniti che non si era mai fermato, che ha accusato anche un po' di fatica però come un diesel eccolo qui presente e soprattutto nella seconda tappa si è visto forse il vero Francesco Corosiniti che tutti conosciamo o no? E giocare in casa sarà un piacere sicuramente. Diciamo che spero di arrivare al massimo fra tre settimane. Come dico sempre è un weekend dove ci giochiamo tutto e spero di dare il mio contributo lì a Riccione. La qualificazione basta una vittoria per far sì che sia matematica però ti chiedo anche un'altra cosa. È importante il piazzamento anche dall'alto della tua esperienza o guardando il girone A forse è meglio arrivare proprio primi in questo momento? Ma noi proveremo ad arrivare primi perché vincere aiuta a vincere ma la storia dice che non è fondamentale che si può vincere il campionato arrivando qua arrivando quart quindi non è fondamentale dai. Il gruppo come sta? Come si è allenato? E della negra se vi hai chiesto qualcosa di particolare per questa terza d'app? No, come ti dicevo sarà importante per preparare la squadra per le finali. Ormai la qualificazione è quasi certa quindi avremo 20 giorni da qui a Riccione per arrivare al top nella condizione là. Sarà un altro Terracina quello della finale di Supercoppa? Dipende se faranno qualche movimento di mercato dipenderà da quello ma in ogni caso sarà una partita molto difficile come è sempre stata la partita tra Catania e Terracina quindi a prescindere da chi si presenterà là sarà una battaglia. Grazie